Nell'ambito delle attività legate alla scuola tennis e nel rispetto delle regole che al momento consentono le attività sportive, si è svolto il torneo di carnevale per i corsisti del country tennis savellino del maestro Guido Nazaro. I più piccoli, seguendo la didattica del Fit Junior Program, si sono cimentati a giocare i loro match nelle categorie red, orange, super orange e green. Forte è la passione del coinvolgimento dei baby tennisti, molti dei quali erano al loro primo appuntamento torneistico. Il clima che si è respirato è stato quello giusto per un percorso formativo di crescita, che vede al centro dell'attenzione sempre prima il bambino e poi l'atleta. Match avvincenti anche per i più grandi, suddivisi nelle categorie senior e senior agonistici. Ad aggiudicarsi la manifestazione, nella categoria red e orange sono state due ragazze, Ginevra D'Agostino e Marisa Iapicca. Anche la categoria super orange e green ha visto primeggiare le donne con Samira Nicolino da una parte e Alessia Ospedale dall'altra. Per i senior e senior agonistici invece a trionfare sono stati gli uomini con Giovanni Conforti e Antonio Vecchione. Una competizione, quella del torneo di carnevale, che sarà riproposta negli anni a seguire. Anche perché non c'è stato soltanto il campo da gioco protagonista, ma sorrisi, maschere e tanto sano divertimento. Anche perché non c'è stato soltanto il campo di carnevale, ma sorrisi, 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 ma sorrisi. Grazie. Grazie. Grazie.